Tragedia della strada a Porto Gruaro a scontrarsi due auto nulla da fare per una donna di 70 anni inutili per lei tutti i tentativi di soccorso. Trufavano anziane fingendosi parenti che avevano subito un incidente stradale agli arresti domiciliari un 23enne e un 21enne residenti nel veneziano. Avevano preso di mira nove ultraottantenni abitanti nelle ex province di Pordenone e Udine. Avevano dichiarato di risiedere in Italia da dieci anni per incassare il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Pordenone denuncia a tre persone incassati oltre 25 mila euro. La somma sarà recuperata dall'Inps. A Trieste si è conclusa la prima edizione del forum Risorsa Mare, evento dedicato alla filiera marittima. Presente il ministro Nello Musumeci. Elaborate otto proposte per favorire la competitività di un settore che in Italia vale quasi 25 miliardi. Tra i primi obiettivi una governance unitaria per il sistema portuale. TGM ben ritrovati con il telegiornale di media 24 i titoli della nostra edizione. Apriamo subito con la tragedia della strada accaduta ieri in tarda serata a Portogruaro. Un incidente tra due auto nulla da fare per una donna. Il primo servizio Rosario Padovano. Grande dolore a Portogruaro per la morte di Nicoletta Battisacco, madre di quattro figli 70 anni, deceduta nell'allucinante incidente stradale di ieri sera sulla strada provinciale per Fratta che collega il territorio di Fossalta di Portogruaro con la periferia a nord di Portogruaro. La donna abitava al condominio Azzurra in compagnia di 18 gatti in via Aldomoro numero 60. Si tratta di un incidente molto probabilmente provocato dalla velocità e dall'asfalto reso viscido da un pulviscolo di gas e altre sostanze che unite alla pioggia hanno reso l'asfalto molto scivoloso. Lo scontro è stato frontale. Ferito un ventottenne di Fossalta di Portogruaro ricoverato all'ospedale. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri. La strada è stata chiusa. C'è stato anche l'intervento di Suem 118 e di Polizia Locale del distretto Venezia Est. Per Nicoletta non c'è stato nulla da fare. La donna collaborava con molte associazioni animaliste del territorio e anche faceva la volontaria per pazze per le pezze le signore che ricamano le loro creazioni donandole in beneficenza. Allucinante tutto quello che sta accadendo in questi giorni sulle strade portogruaresi si contano tre morti in cinque giorni. Siamo a livelli molto gravi. L'emergenza è assoluta. Sarebbe morto dopo aver provato a soccorrere il collega Marco Bettolini. Il 46enne di Bassano del Grappa ha deceduto nell'incidente sul lavoro accaduto ieri nel tardo pomeriggio alla cantina Cadiraio di San Polo di Piave in via del Carmine. L'altro lavoratore, un 31enne di Cordiniano, era entrato all'interno di una cisterna in autoclave in cui era stoccato del vino sul fondo della stessa. Sembra per eseguire delle operazioni di manutenzione e pulizia. Colto da malore e svenimento a causa delle esalazioni di monossido e per l'assenza di ossigeno è caduto dentro alla cisterna. Bettolini a quel punto sarebbe intervenuto per prestargli aiuto perdendo i sensi a sua volta e cadendo dentro alla struttura. Inutili per lui i soccorsi da parte del suo M118 per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia dei carabinieri e lo Spisal. Truffavano anziane fingendosi parenti che avevano subito un incidente stradale. Agli arresti domiciliari un 23enne e un 21enne residenti nel Veneziano avevano preso di mira nove ultraottantenni abitanti nelle ex province di Pordenone e Udine. Tania Pellegrini. Truffano almeno nove anziane residenti tra le ex province di Pordenone e Udine con la tecnica del cosiddetto finto incidente del parente. Agli arresti domiciliari un 23enne e una 21enne abitanti nel Veneziano. La coppia è ritenuta responsabile di almeno quattro truffe e cinque tentate truffe commesse in complicità con altre persone. Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Spilimbergo, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone e il dottor Marco Fayon, sono iniziate nella mattinata dello scorso 20 aprile, dopo che nella città del mosaico si erano verificati quattro di questi nove episodi di truffe, due portati a termine e due tentati. Il modo di avvicinarsi a legnare vittime era sempre lo stesso. Uno telefonava nella casa delle anziane ultraottantenni dichiarando che il figlio, nipote e un parente stretto aveva appena avuto un incidente stradale e necessitava urgentemente di denaro contante, solitamente 6 o 7 mila euro, per risarcire la controparte evitando così gravi conseguenze legali. All'arrivo della complice le vittime consegnavano il denaro o i gioielli per poi vedere la malfattrice di leguarsi. Le indagini, condotte fin da subito dai militari di Spilimbergo, hanno permesso in breve tempo di individuare la targa dell'autovettura utilizzata dai truffatori di conseguenza relativo proprietario, nonché di recuperare dai sistemi di videosorveglianza del comune le immagini della donna che materialmente aveva compiuto il reato. Con le prequisizioni personali delle abitazioni dei sospettati eseguite il 6 maggio, sono state raccolte prove inconfutabili che hanno così attribuito a loro la responsabilità dei reati commessi a Spilimbergo. I Carabinieri del Nord hanno quindi proseguito ancora più approfonditamente le indagini, riuscendo a risalire ad una serie di ulteriori truffe e tentate truffe, almeno 5, avvenute nei giorni successivi ai danni di anziane e signore abitanti sull'intera provincia di Udine, da parte della stessa coppia di giovani con la complicità di almeno una telefonista dall'estero, causando un danno economico alle anziane vittime complessivamente stimato in almeno 25 mila euro. Per la gravità dei numerosi reati contestati, tra il 24 agosto e il 4 settembre i militari, su disposizione del PM, hanno tratto in arresto entrambi i giovani accompagnandoli nelle rispettive abitazioni per l'applicazione dei braccialetti elettronici. I carabinieri del comando provinciale di Pordenone invitano la popolazione a segnalare immediatamente le chiamate sospette al numero di pubblica emergenza 112, ricordando agli anziani che nessuno, e tantomeno i rappresentanti delle forze di polizia, può chiedere denaro o altri valori per risolvere pratiche o problematiche legate ad incidenti stradali. Fiume Veneto, probabile truffa attraverso i telefonini e la casella e-mail. L'ultima segnalazione arriva proprio dalla provincia pordenonese. Al messaggio non si deve rispondere. Un messaggio è recapitato l'altra mattina da una donna che lavora a Pordenone ma vive in una località di Fiume Veneto. Quando ha letto il messaggio sul telefonino c'era dall'altra parte una finta azienda che consegna pacchi nel settore dell'e-commerce. I dati di nome e cognomi erano giusti ma l'italiano restava approssimativi e quindi già da lì la potenziale vittima ha capito che dietro quell'SMS ci fosse un tentativo per raggirarla. All'interno del medesimo messaggio ci sono quattro link in cui l'utente cliccando è obbligato a registrarsi e a fornire i suoi dati. Solitamente vengono chiesti i dati della carta di credito per poterla clonare oppure per attingere direttamente il denaro dal proprio conto corrente. Fare sempre molta attenzione. Portogruaro torniamo a parlare della tragedia che ha visto coinvolto un bambino di 18 mesi deceduto lunedì sera e trasportato all'ospedale cittadino. Il bambino schiacciato dall'auto. Questo perlomeno quanto emerso dall'autopsia con dei traumi da schiacciamento al capo. Intanto è irreperibile un cugino. Sentiamo. Ancora una svolta nel caso di Bilal Cortesi. Il bambino di 18 mesi drammaticamente ucciso ha ruotato dalle pneumatici di una macchina. Un cugino di fatto è irreperibile. Potrebbe essere colui che materialmente stava guidando la vettura che poi è finita addosso alla creatura. Il bambino tra l'altro prima di essere portato al pronto soccorso era stato provvidenzialmente lavato dai familiari. Non si sa però a che titolo. E ancora dopo la prima chiamata al 118 in cui la famiglia ha richiesto un'ambulanza la stessa ha poi annullato l'intervento di fatto quando stava per arrivare la piccolo al pronto soccorso con la stessa macchina che l'avrebbe in qualche modo investito accompagnato appunto dai familiari. C'è poi il cambio di versione della famiglia stessa. Prima hanno detto che era caduto dalla macchina poi che una vettura in modo accidentale avrebbe potuto muoversi travolgendolo. Infine c'è questa svolta nuova imprevista. Il cugino irreperibile si sa chi è ma potrebbe essere riparato in Serbia. Ancora non è stato diffuso un identikit dall'Interpol ma non è escluso che i carabinieri su spinta della procura di Pordenone possano chiedere l'ausilio dell'Interpol per stanarlo. Andiamo nel Bellunese dove il soccorso alpino ha tratto in salvo una donna di 77 anni di Oderzo che stava facendo una passeggiata a San Vito di Cadore nella strada che porta al rifugio Talamini. Una squadra si è portata con i mezzi a quota 1200 metri trovando il marito della donna che ha dato indicazioni. Raggiunta la 77enne dopo aver percorso un centinaio di metri taglialberi i soccoritori l'hanno assicurata e condotta verso la strada dove ad attendere c'era un'ambulanza che poi l'ha condotta in direzione dell'ospedale di Cortina d'Ampezzo con diverse ferite fortunatamente non gravi. Richiedono il codice fiscale solo per percepire il reddito di cittadinanza ma non sono residenti in Italia. Denunciati dalle fiamme gialle di Pordenone tre cittadini romeni illecitamente avrebbero ricevuto complessivamente oltre 25 mila euro. Dichiarano falsamente di essere residenti da oltre dieci anni in Italia per percepire il reddito di cittadinanza. Denunciati dalle fiamme gialle del comando provinciale di Pordenone tre cittadini romeni che hanno illecitamente ricevuto dall'Inps 25.700 euro da marzo 2021 ad agosto 2022. L'attenzione è stata posta sui tre stranieri in seguito ad una segnalazione pervenuta ai finanzieri da parte dell'ente previdenziale che nel corso di una mirata analisi di rischio aveva notato che nei documenti dei tre cittadini romeni oltre alle residenze non erano riconoscibili altre informazioni né di carattere tributario né di stato civile. Incrociando le informazioni delle tante banche date a disposizione i finanzieri della tenenza di San Vito al Tagliamento hanno così scoperto che i tre romeni avevano personalmente chiesto ed ottenuto il codice fiscale attestando all'Agenzia delle Entrate di essere fisicamente domiciliati in Italia ad un indirizzo che, nell'autocertificazione presentata per l'accesso al reddito di cittadinanza, era improvvisamente diventato luogo della residenza ultradecennale. Uno dei requisiti necessari per ottenere il sussidio era infatti essere residenti nel territorio nazionale da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due dalla presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo. Dichiarando falsamente di soddisfare questo requisito, i tre romeni hanno percepito il reddito di cittadinanza per complessivi 25.700 euro. L'illecito è stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria del Friuli Occidentale e all'Inps per il recupero delle somme erogate. Due stranieri irregolari sono stati fermati durante un blitz eseguito dai carabinieri a Eraclea presso il condominio Mimose, situato nella località Balneare in via Magnoli. Si tratta di un complesso di 96 appartamenti, di cui 19 interessati da una procedura di sfratto. Entrambi, come detto, erano irregolari sul territorio nazionale. A uno è stato notificato l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, mentre l'altro, già destinatario di un provvedimento di espulsione nel 2014, è stato colpito da un nuovo decreto. Al termine delle formalità diritto è stato accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Bari. Economia del mare a Trieste è il forum che ha portato nel capoluogo Giuliano esponenti di governo, tra cui il ministro Nello Musumeci, sia una governance unitaria per il sistema portuale. Otto proposte per favorire la competitività, ma anche la sostenibilità e l'attrattività della filiera marittima, fiora all'occhiello italiano. È quanto elaborato nel corso della prima edizione del forum Risorsa Mare, evento iniziato ieri e conclusosi oggi a Trieste, realizzato sotto la regia del The European House Ambrosetti. Presenti diversi esponenti del governo Meloni, tra cui il ministro Nello Musumeci. L'economia del mare per l'Italia vale molto essendo il terzo paese dell'Unione Europea sia per valore aggiunto con una quota di 24,5 miliardi, sia per occupati con oltre 540 mila posti di lavoro. Un sistema economico che contribuisce con circa 65 miliardi al prodotto interno lordo del paese. Al forum di Trieste è presente anche Union Mare Veneto. Da tempo continuiamo a combattere e a lottare per chiedere delle politiche dedicate a questo settore così legate al territorio, anche in funzione delle grandi ricadute occupazionali e sociali che sviluppa. È stato veramente molto positivo e molto importante poter dare un contributo attivo a questo momento di confronto. Le otto proposte di azione di miglioramento sono legate a logistica e portualità, industria marittima, filiera ittica, tutela ambientale, dimensione subacquea, turismo costiero e cooperazione internazionale. Sul fronte portuale è emerso come l'Italia sia leader nel Mediterraneo e in Europa per il trasporto marittimo a corto raggio e detiene la maggior quota di mercato nei servizi delle autostrade del mare. Il bel paese può affermarsi sempre più come piattaforma logistica in connessione per i flussi tra Europa, Asia e Africa. A tal fine il sistema portuale italiano dovrà adottare nuove tecnologie digitali al fine di efficientare le funzioni dei porti per trasformarli in hub energetici che possano essere capofilia della transizione sostenibile. Per farlo si dovrà adottare il sistema portuale italiano di una governance unitaria per superare l'attuale frammentazione e rafforzarne il coordinamento favorendo la pianificazione e la trazione di investimenti di lungo periodo. Rimaniamo a Trieste, presentata la Barcolana 2023. Sentiamo il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil. La Barcolana è la più grande regata al mondo, quindi è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vela ma è un appuntamento che appassiona anche chi non segue la vela perché in quei giorni trova a Trieste un'infinità di proposte, una grande festa dove anche un po' onomatopeicamente l'aggettivo poi divenuto nome Barcolana sembra disegnare una serie di linee zigzaganti, ondivaghe con cui colora di bianco e di altri colori l'azzurro del nostro mare. È una grande festa ma è anche una grande vetrina per la nostra regione, noi ne siamo consapevoli e siamo orgogliosi di poterla ospitare e riconoscenti nei confronti di tutti questi organizzatori. C'è una rete di circoli velici che rappresentano davvero l'eccellenza sportiva per la regione Friuli Venezia Giulia. La Barcolana è sport ma è anche poesia, è la cultura di una città Trieste che è strettamente legata con il mare, è la cultura di una storia che affonda le origini nel millenni e che vede l'uomo conquistare il vento. Dio ci ha dato il vento e aspetta l'uomo hissare le vele per saperlo utilizzare. Ecco noi Massimo Forliti, consigliere incaricato della Portogruaro Campus, ben ritrovato. Grazie ci siamo visti qualche settimana fa, grazie ancora per il rinnovato invito è sempre un piacere visitarvi. Sì anche perché poi si parla di cultura ma anche di turismo e piano nazionale di ripresa e resilienza perché domani a Portogruaro insomma sono attesi ospiti illustri sul fronte accademico per un evento insomma che appunto tende a valorizzare dei temi che insomma se ne sempre se ne sente parlare da tanto tempo poi però andando nel concreto Forliti insomma le soluzioni al momento latitano per far crescere ancora di più questo territorio. Certamente questa è l'occasione per iniziare un percorso di suscitare l'interesse delle categorie professionali della comunità come diciamo noi spesso su questi temi. Ecco quando sentiamo parlare spesso tra poco credo che comincerà la campagna elettorale qui a Portogruaro per il nuovo sindaco. Mi riferivo proprio a quello. Ecco ma avevo capito la domanda avevo capito quindi rispondo e quindi si parla di turismo di cultura e di industrie creative. È ovvio che è un tema molto sensibile per il nostro territorio e il nostro territorio ha una vocazione in particolare per questo come tante altre del Veneto. È ovvio che poi per focalizzarsi bene ci vuole anche l'innesco e l'incontro domani con la rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, col presidente della Fondazione di Venezia Michele Bugliesi, già precedente rettore e proprio io ringrazio per questo loro interesse anche per il nostro territorio a proprio questo obiettivo presentare le opportunità che il PNRR in cui l'Università di Ca' Foscari come altri centri universitari hanno un ruolo fondamentale può contribuire per lo sviluppo del territorio. Poi certo la comunità nel suo insieme in maniera coesa deve rispondere a queste sollecitazioni. Ecco quindi l'obiettivo di domani è proprio presentarle e solo l'Università le può presentare e lavorare in sinergia per poi metterle a terra nei prossimi anni. Anche perché insomma parliamo di un territorio che sotto tanti punti di vista penso che non abbia uguali o paragoni da un punto di vista geografico con la vicinanza con le spiagge, la cultura, la storia, l'architettura ce ne sarebbe da fare? Certamente, assolutamente, sono temi ripeto molto coerenti con la vocazione nel nostro territorio e quindi bisogna darsi degli obiettivi, avere la capacità anche di realizzare perché il PNRR lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, è un bellissimo progetto parliamo di quasi 200 miliardi di euro a disposizione, è molto ambizioso e richiede che tutte le componenti della società italiana siano all'altezza di questo compito e quindi anche le comunità locali, anche gli enti territoriali che nel PNRR proprio per scelta politica hanno un ruolo fondamentale, quindi anche a noi sui territori su di noi incombe anche l'onere di rispondere a queste sollecitazioni in maniera chiara. E per i giovani, ecco come recita l'introduzione proprio sul PNRR, proprio per avere una società nel futuro diversa, domani sono certo che avremo diversi giovani, alcuni del liceo 25 aprile saranno con noi e quindi anche l'occasione per loro perché il loro futuro insomma è il nostro e il bene più prezioso che abbiamo, come diciamo sempre, sono i giovani e quindi queste opportunità le presentiamo anche per loro. Poi spalla anche tra l'altro di turismo sostenibile, un'ultima battuta, sono tante le indicazioni che arrivano dalle associazioni, io qualche mese fa ho moderato proprio un dibattito alla presenza di tutti gli enti e le associazioni del territorio che portavano concretamente delle proposte per questo territorio, la speranza è che poi la politica a queste proposte alla fine insomma non le lascia andare ma le colga altrimenti il territorio rimane fermo. Certo, non è solo la politica e tutto il sistema che deve rispondere, se no se si opera non si opera in sinergia, in cooperazione, in collaborazione i risultati non si ottengono soprattutto in un mondo complesso come quello di oggi in cui non è necessario andare oltre quello che è una visione limitata, quindi bisogna vedere anche i movimenti che ci sono internazionali e sapere, ripeto, saper rispondere a queste sfide e lavorare in sinergia e in cooperazione. È fondamentale che tutte le componenti del territorio operino in sintonia a mio parere perché questo abbia successo. Ce ne sono tante molto attive nella nostra zona ed è importante metterle in relazione le una con le altre in modo che sfruttino tutte le potenzialità che si possono avere. Grazie a Massimo Folliti, domani quindi alle 10.30 al Polo Universitario di Portogruano. Grazie mille. Rimaniamo nella città dell'Emene, servizi ospedalieri a rischio, un primario è già andato via, l'altro sta per andarsene, la ricostruzione del fatto, Rosario Padovano. Si teme un nuovo ridimensionamento dei servizi sanitari a Portogruaro. Il primario di oncologia ha scelto di andare a lavorare altrove. Daniele Bernardi non esercita più in città. La notizia è stata confermata dall'ASL4 che fa sapere di avere avviato le procedure per un nuovo bando che assicuri nell'ospedale cittadino un nuovo direttore di reparto. Inoltre, a fine anno, il primario di ortopedia, sempre a Portogruaro, Luigino Turchetto, lascerà per raggiunti limiti di età. Nei giorni scorsi è stata ricevuta una delegazione dal commissario straordinario Iginio Olita che ha fornito ampie rassicurazioni. Intanto, il reparto di ORL partecipa a una campagna che indica la prossima settimana come quella giusta per gli screening gratuiti alla testa e al collo contro i tumori. Martedì 19, giovedì 21 settembre prossimi, negli ambulatori di Otorino la ringogliatria all'ospedale Sant'Omaso dei Battuti di Portogruaro, potranno essere eseguite su tutti visite gratuite. Necessaria la prenotazione. Rientriamo in studio con Luigi Toffolo che è segretario della Lega Portogruaro. Ben ritrovato. Grazie. Si avvicina chiaramente uno degli appuntamenti sul fronte politico più attesi per il mondo della Lega in Veneto, ma dappertutto. Chiaramente il riferimento è a Pontida domenica 17 settembre. Che atmosfera sarà questa? Perché abbiamo visto anche le polemiche che ci sono state in questi ultimi giorni sul fronte di eventuali cambi di partito, ma anche sull'arrivo di Marine Le Pen annunciata da Salvini che ha creato più di qualche malumore. Intanto Pontida è un momento identitario per la Lega, prima di tutto. Quindi è un momento sacro, tra virgolette, un momento importante per chi crede in questo movimento, in questo partito. Io ho vissuto gli ultimi 4-5 anni e devo dire che c'è stata un'evoluzione soprattutto dalla trasformazione da un partito regionale a un partito nazionale. Questo è il punto cardine della situazione. Prima si vedevano tante bandiere del Veneto, della Lombardia, del Piemonte. Adesso vediamo anche... Tricolori nazionali. Sì, quelle sarde, quelle siciliane, quelle... Questo è, diciamo, mi ricordo anche un momento, un altro momento importante è stata la marcia che abbiamo fatto a Milano nel 2017, da dove è stato un grande corteo con tutte le bandiere, diciamo, regionali. E si è capito, almeno io personalmente, ma credo molti di noi, hanno capito, diciamo, qual è il clou, qual è il core della lega, cioè un movimento, un partito che crede nella federalismo responsabile, come diciamo sempre, cioè il fatto che ogni regione abbia una sua autonomia responsabile e anche di tipo, ovviamente, rivolta verso l'aspetto responsabile della spesa, della gestione delle risorse, anche perché l'autonomia, se, insomma, non andrà a buon fine, era già stato detto, insomma, prima della formazione dell'esecutivo, l'esecutivo stesso potrebbe essere aliceo, quindi è proprio un accondizio sine qua non questo. E questa credo, io non sono, ovviamente sono segretario, diciamo, locale, però, in quanto la lega, se si deve, deve distinguersi dagli altri partiti, in quanto crede nel federalismo, in questo tipo di governo, se non si dovesse essere un inteso su questo punto, credo che sì, ci sarebbero dei grossi problemi. Abbiamo, a Ternitalia, invece, un partito, diciamo, nazionale, votato, ma non credo che, credo che ci possa essere un punto di incontro fra i due, fra i due, diciamo, modi di vedere del governo. Credo che se si riesce a far questo, allora potremmo dire di aver raggiunto un'intesa fruttuosa per la nostra nazione. Quanti partiranno da Portogruaro? Beh, circa una trentina, poi ci aggiungeranno quelli di Caole, quelli di San Michele, quelli di Sastino. Quindi partiranno da 5 e mezza, una bella sfacchinata, purtroppo alcuni hanno dovuto rinunciare per motivi di salute, perché in una giornata farsi quattro ore di pull mandata e quattro di ritorno non è poco. Però la voglia di stare assieme e di vivere un momento epico di questo movimento, credo che ne valga la pena. Chi volesse partecipare basta che mi contatti. Eventuali passaggi in Forza Italia, come li commento? No commento. No commento. No commento. No, no. Io dico solo una cosa. Chi ha creduto e chi ha avuto anche dalla Lega per un minimo di coerenza, per un minimo di coerenza politica, non dovrebbe fare passaggi, altrimenti si credita alla stessa sua persona. La Lega fra l'altro è un movimento così identitario, così caratterizzante che fare un passaggio della Lega Forza Italia, anche Fratelli d'Italia, credo che non ci sia una logica politica se non ha un altro tipo di logica che non voglio commentare. Grazie Luigi Toffolo per essere stato con noi. Rimaniamo a Portoguaro con una notizia che arriva direttamente dal commissario perché prosegue il programma di sistemazione e riasfaltatura delle strade comunali che in questo periodo estivo hanno interessato diverse vie del centro cittadino. Nei giorni di lunedì e martedì della prossima settimana i lavori interesseranno le vie Puglia, Stazione e Trieste e che insomma continuano con gli interventi delle scorse settimane di cui vi abbiamo dato puntualmente notizia, giusto per insomma anche farvi trovare preparati. Andiamo con lo sport, ad Azzano Decimo, Alex Camera prova un'esibizione con un compagno d'eccezione, il campione olimpionico Igor Cassino. Appuntamento alle 16.30 di domani per una nuova impresa, stavolta ad Azzano Decimo. Il primatista di record individuali da Guinness dei Primati, il superatleta di meduno Alex Camera, arriva ad Azzano Decimo in compagnia di un fuoriclasse, il campione olimpionico della sbarra ginnastica artistica Igor Cassina, oro ad Atene 2004. Assieme renderanno orgogliosi i cittadini azzanesi in via Marconi dove si esibiranno. Come si sa domani c'è Azzano in festa e per la rassegna sport e motori, Alex Camera sarà a trainare un autoblindo M8 Greyhound Levriero della Seconda Guerra Mondiale. Cassina resterà invece fisso in verticale per tutto il tragitto. Tutto è stato reso possibile dalla CRCS di Tricesimo. Questa on-loose, nei cui spazi è stato ospitato per gli allenamenti in questi giorni, Alex Camera, nacque nel novembre 2015 con lo scopo di riunire tutti coloro che sono interessati al collezionismo di militari storica e di veicoli militari d'epoca, con particolare riferimento alla Seconda Guerra Mondiale. Aviano in 361 per la Corsa del Centenario. Inizia il conto alla rovescia per l'evento podistico che domenica 17 settembre celebrerà nella nota località pordenonese una manifestazione aperta a tutti i cent'anni dell'aeronautica militare. A Paolo Nadal, sindaco di Roveredo in Piano, presso il cui municipio si è svolta la presentazione dell'evento, è stato assegnato il pettorale numero uno. La corsa si disputerà sulla pista del Pagliano e Gori. Storico aeroporto nato come semplice campo di volo nel 1911 e dedicato alla memoria di due eroici aviatori della Prima Guerra Mondiale, Maurizio Pagliano e Luigi Gori. Europei di volley uomini, Italia in finale a Roma. Piccoli risvolti veneti negli europei maschili di pallavolo che sono in corso in Italia. Domani sera, dunque, alla finale parteciperanno al Palaeuro di Roma di fronte a circa 10.000 persone, le nazionali di Italia e di Polonia. Quasi una rivincita del Mondiale di Katowice dell'anno scorso, vinto per 3-1 dagli azzurri dopo una gara esemplare. Nella semifinale di giovedì sera Italia-Francia c'era anche un po' di Veneto in tribuna. Infatti Simone Anzani si è presentato dopo il ritorno all'attività agonistica a San Cito dopo gli ultimi e recenti controlli medici. Era stato infatti fermato per problemi cardiaci e non ha potuto prendere parte come centrale alla rassegna continentale. Sicuramente dal Veneto del Friuli molti prenderanno il treno per raggiungere Roma in possesso già di un biglietto. Il Palaeuro è sold out da mesi e vengono in mente altri importanti trionfi azzurri. La vittoria della semifinale dei mondiali del 78 contro Cuba quando il gabbiano d'argento arrivò secondo sconfitto soltanto dall'Unione Sovietica ma soprattutto la vittoria dell'europeo 2005. Questo sì firmato dai ragazzi del nord-est. Il quinto europeo con Montali in panchina vide protagonisti Cisolla della Sisley Treviso all'epoca e Mattei Ceneci il goriziano colui che trascinò gli azzurri alla vittoria in rimonta sulla Russia per 3 a 2. Ieri era anche il ventesimo anniversario del quinto titolo europeo conquistato proprio contro la Francia vent'anni prima a Berlino con un'epica rimonta dal 40 a 42 fino al 3 a 2 finale. Con noi c'è anche Mattia Nicoloscavo giornalista scrittore che ha dato alle stampe proprio in queste ultime settimane un libro L'ex per fosfati di Portogruaro realizzato insomma anche dalle istituzioni con il contributo delle istituzioni del territorio ha raccolto 123 anni insomma di storia di questo sito che chiaramente rappresenta una parte importante di questo territorio. Ben ritrovato da dove nasce questo insomma anche lavoro che chiaramente cinque anni se non ero di documentazione. Buonasera grazie per l'invito Alessio. È una storia che parte da molto lontano che ha come protagonista il territorio ha come protagonista Portogruaro e ha come protagonista il lavoro il lavoro agricolo che fin dai primissimi anni del novecento è stato il protagonista assoluto del nostro territorio. A partire dai bonificatori che hanno recuperato una terra povera e l'hanno diciamo elevata a uno scopo più alto e quindi grazie al lavoro agricolo, grazie al lavoro dei nostri avi, la nostra terra, il Portogruarese, ha saputo rilanciarsi e riscattarsi e diventare ancora più grande grazie anche a questa fabbrica che ha rappresentato il gioiello del nostro territorio e del nord Italia sicuramente. Dove sei riuscito a recuperare anche questa mole di informazioni? Beh sicuramente è stato molto complesso perché non c'era niente prima, c'era soltanto qualche saggio degli anni ottanta, un saggio e qualche tesi di laurea successiva dal punto di vista prettamente architettonico quindi il lavoro di ricerca e poi anche di scrittura è stato lungo e molto ampio in quanto appunto non c'era niente di catalogato quindi ho dovuto andare alla ricerca e diciamo cercare, cercare, cercare e mettere insieme i pezzi. Un'ultima battuta, che cosa può rappresentare anche per il futuro questo sito? Perché chiaramente parliamo di un'area strategica. Beh sicuramente questa è una domanda che sarebbe più opportuno che rispondessero ovviamente Gli amministratori del domani. Gli amministratori insomma. Però insomma tu che ti sei documentato e raccolto 123 anni di strada, ti sarai fatto, no? Beh sicuramente io credo che ci siano due visioni attorno a questa area. Una è una visione che ritiene l'area una zavorra che ci portiamo dietro da sempre, da quando insomma la fabbrica, la produzione fu dismessa nell'89 e quindi una macchina che nel tempo ha mangiato soldi pubblici. Invece c'è l'altra parte, l'altra visione a cui io appartengo che è quella di vedere non l'area ex perfosfati come un debito ma come un asset da valorizzare e che rappresenterà sicuramente il volano per la Portogrua di domani a patto che si riesca, grazie ovviamente all'intervento dei politici, degli enti, ai vari livelli ad avere anche, a coinvolgere il privato, i privati creando un'accordata che possa insomma gestire quella imponente struttura. Grazie, andiamo con un servizio Gusti di Frontiera ai blocchi di partenza al via La Kermess. 400 stand da oltre 40 nazioni occuperanno le vie del centro di Gorizia per la diciottesima edizione di Gusti di Frontiera. La Kermess enogastronomica più grande del Triveneto al via il 21 settembre tra iniziative già consolidate e tante novità. Quest'anno grande spazio anche alla musica tradizionale, spettacoli di danza e molto altro. Il nostro slogan è il mondo in tavola, non sono solo parole ma è una realtà, una maggior sottolineatura la effettueremo nei confronti delle eccellenze che produce il nostro territorio e non potevamo fare diversamente anche perché stiamo correndo col vento in pop verso la capitale europea della cultura del 2025, una straordinaria opportunità come sappiamo per tutto il frio di Venezia Giulia, proporremo a tutto il mondo la nostra cultura, le nostre radici, la nostra tradizione, il cibo perciò è come cultura, è come suonadici, è come storia e tradizioni. Ci saranno delle novità grazie a un contributo anche alla collaborazione fornita dalla regione che vale sia per il contributo finanziario ma ovviamente anche le infrastrutture, collegamenti, mezzi eccetera si potrà venire in totale sicurezza a divertirsi perché questo Gusti di Frontiera è ormai Gusti di Frontiera che è la più grande chermessa gastronomica del nord-est del nostro paese è diventato un luogo di appuntamento fisso per tante persone che vengono da tutta Italia amici che vengono da tutta Europa si danno appuntamento a Gorizia a Gusti di Frontiera perciò non dimenticatevi da giovedì 21 settembre a domenica 24 settembre Gusti di Frontiera ci vediamo lì Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo a seguire le notizie dei colleghi nazionali di Italpress e poi alle 22 da non perdere come sempre il film in prima serata per quanto riguarda l'informazione ci rivede puntuali con i prossimi notiziari di Media24 Arrivederci Grazie a tutti